acquarius starter kit ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale vi dico subito iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere anche tutti i nuovi prossimi video bene oggi è arrivato il grande giorno stiamo per recensirvi il nostro primo starter kit in offerta in anteprima direi questo è il nostro piccolo diciamo prodotto tra virgolette piccolo nel senso inteso come umiltà però fatto con secondo me dei crismi estremamente importanti abbiamo cercato in questo starter kit in questo video vi diremo anche il prezzo di questa vasta mobile samp con scarichi e altre cose praticamente abbiamo cercato di riepilogare tutti quelli che sono le problematiche le problematiche legate a acquario mobile supporto samp scarichi diametri via dicendo vetri incollaggi sfondi di tutta la nostra diciamo esperienza vista nei 14 anni di attività abbiamo cercato di togliere tutti i difetti nelle vasche più comuni di acquariologia in questo senso e questa deve essere il nostro massimo dell'espressione per quanto ci riguarda della creazione di un acquario dando un occhio a un'estrema qualità ma un prezzo estremamente concorrenziale c'è più che concorrenziale estremamente vantaggioso in quanto si parte da qui con le nostre produzioni ne abbiamo già fatti tantissimi ne avete comprati molti e tutto quanto ma mai era stata fatta una recensione sul nostro prodotto abbiamo fatto per altri ma mai una recensione di questo tipo quindi oggi per me è un grande giorno non mi nascondo sono anche un pochino emozionato nel recensire un nostro prodotto adesso ci avvicineremo vi farò vedere tutto nel particolare però prima voglio dirvi che praticamente è una vasca che è 80 cm x 45 x 45 quindi non è una vasca gigante ma ci consente di piazzarci in un litraggio medio dove si può fare praticamente questa vasca qui si può fare qualsiasi cosa qualsiasi cosa non come pesci ovviamente lo sapete per i pesci a volte occorre molto più spazio se si tratta di pesci grandi ma come come coralli quindi come riff come come acquario marino inteso nei tempi moderni di conseguenza abbiamo possiamo fare qualsiasi cosa perché la samp ce lo consente lo spazio all'interno del mobile over samp cioè fuori dalla samp ci consente di montare qualsiasi cosa del reattore qualsiasi altro aggeggio che può essere esterno alla samp qualcosa può sarci anche all'interno oltre lo schiumatoio possiamo mettere un regolatore di livello eccetera eccetera calze per la discesa e tutto quanto allora adesso io vi prendo e vi porto a far vedere la nostra creaturina allora i cristalli nel frattempo ve lo illustro i cristalli sono un po particolari perché sono un cristallo estremamente chiaro super extra chiaro la lampada è messa solo per consentirmi di fare il video questo è lo scarico che rigorosamente ocean life scarico da 40 persin troppo cioè persin tanto come livello di scarico ma avete già visto probabilmente vi metterò il link anche qui per andare a vedere la recensione di questo scarico che veramente ottimo la vasca verrà fornita già con uno sfondo di vetro bianco ovviamente non poteva mancare il nostro marchio su questo prodotto poi cos'altro dunque che abbiamo la samp fatta in questi termini quindi tropical mania non poteva mancare la scritta come notate vano per rabocco automatico quindi osmosi inversa vano per materiali filtranti qualora li volessimo mettere vano più in là abbiamo fatto tanti video e sulle samp anche lì vi metterò qualche link magari vanno quello che vedete lì della pompa di risalita questo qui il vanno abbastanza ampio a mio giudizio almeno per come lavoriamo noi per andarci a mettere del schiumatoio calze via dicendo questa è la samp come si presenta ce l'ontaniamo un pochino per far vedere ok supporto per quanto riguardo supporto e vi ripiazzo un attimino fermi così vi spiego senza farvi venire mal di mare dopo ritorniamo a vedere il supporto allora per quanto riguarda il supporto abbiamo abbiamo lavorato tantissimo abbiamo lavorato tantissimo per cercare di andare a eliminare le problematiche legate al legno al compensato poliespanso e tutti quei materiali che vengono usati normalmente sulle vasche entry level questa sarà una vasca che si posizionerà una vasca uno starter kit intero quindi vasca mobile scarichi più che mobile supporto samp in una fascia di entry level come prezzo ma semplicemente perché vogliamo entrare nel mercato con questo genere di vasche acquarie eccetera eccetera o meglio voglio andare alla possibilità a più persone possibili di accedere anche all'acquariologia non a prezzi folli se vogliamo una qualità molto molto alta dunque il supporto quindi dove abbiamo lavorato di più non esiste nessun pezzo di ferro quindi quando parliamo di ferro spesso e volentieri si narra di acciaio perché il ferro e fe molto spesso viene anche classificato come acciaio quindi qui non c'è acciaio non c'è ferro quindi nulla che può andare a rugginire non c'è legno che può gonfiare o le problematiche che ne escono molto spesso anche perché quasi mai è legno e non è legno magari trattato in maniera adeguata non conosco tutti i prodotti sul commercio ma io vi riporto la mia esperienza quindi abbiamo cercato di ridurre tutti quelli che sono i difetti degli acquari in genere di conseguenza abbiamo dei materiali compositi che nulla hanno che vedere con acciaio ferro tutto materiale che può ossidare e via dicendo le antine e il mobile sono qualcosa di molto molto bello sembra poco ma ci abbiamo lavorato veramente tanto allora questo è lo scorrimento gli avevo già preannunciato in un altro video questo qui lo scorrimento quindi molto 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 liscio come notate adesso io sono messo malissimo quindi sentite questo rumore ma perché sto tirando lampa in maniera non normale quindi questo qui lo scorrimento la vasca l'abbiamo detto il gli scarichi l'abbiamo detto la lampada che vedete sopra mi raccomando non è compresa nel nel starter kit ed è tutto quanto il resto compreso quindi riep logando adesso vi dico il prezzo perché allora lei con lo starter kit contiene scarico vasca supporto samp e siamo a 887 euro quindi grosso modo forse un 100 euro in più di ciò che si può trovare a meno sul commercio con dimensioni simili di conseguenza per noi niente è un grande onore avere a che fare con voi e proporvi questa vasca qui scusate se non sono stato molto brillante come altre recensioni o come altri video dove vi spiego alcune delle caratteristiche biochimiche degli acquari ma avendo fatto noi questo prodotto sono un po un po così un po emozionato niente ragazzi per qualsiasi richiesta commerciale in questo caso quindi se volesse acquistarla abbiamo qualche riserva per le spedizioni e non siamo sicurissimi di poter effettuare spedizioni in quanto non è esattamente nostro lavoro e abbiamo paura di rotture o cose varie per quanto riguarda le spedizioni e sarebbe un peccato per queste cifre eccetera eccetera quindi mi spiace se non potremmo arrivare ovunque ma non è detto ci stiamo lavorando anche lì è questa questo starter kit sarà disponibile dalla prossima settimana perché ci manca ancora un upgrade sulla samp a livello di coibentazione esterna ho deciso di fare comunque il video perché non si sarebbe visto quindi di conseguenza è una parte nascosta quindi sta posteriore e probabilmente anche nella parte inferiore della samp quindi ricordatevi 887 euro tutto ciò che vedete tranne l'illuminazione io sono contentissimo di questo prodotto spero lo siate anche voi spero di poter dare la possibilità a chi magari fino adesso voleva un prodotto di qualità a un prezzo non esagerato bene noi siamo riusciti credo poi ditemi anche voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate credo di essere crediamo di essere riusciti con un buon prodotto bene ragazzi se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e condividete il video se vi è piaciuto ciao e buona acquaria a tutti